Conclusosi ufficialmente alle 20 del 31 agosto, il calciomercato continua a far parlare di sé, soprattutto in Serie C. Diversi gli svincolati, qualcuno anche di lusso, con alcune società che hanno bisogno di correre ai ripari per un motivo o per un altro. Su tutte la Juve Stabia, che dopo l'infortunio alla spalla contro l'Avellino, corso ad Eusepi e alla disperata ricerca di un bomber. Per Pesemti, ex Arezzo, non ha trovato l'accordo con il DS Rubino, che ora sembrerebbe aver virato su un altro ex Avellino e sull'esperienza del miglior marcatore della C, ovvero Felice Evacuo, nella passata stagione al Catanzaro e attualmente senza club. La Turris, invece, ha abbracciato il centrocampista etalo-brasiliano Francisco Sartore l'anno scorso al Bisceglie, mentre il Messina di Mister Sullo ha accolto l'ex attaccante del Pescara, Ante Vukusic. Il Croato sarà un rinforzo importante, almeno sulla carta, per i siciliani che non sono partiti male conquistando due pareggi, prima a Pagani e poi nel derby contro il Palermo. Il Foggia di Zeman, invece, vedrà arricchirsi di qualità ulteriormente il tridente offensivo. Se Ferrante è andato in gol contro il Potenza e il terminale avanzato, gli esterni sono da fare invidia alle big del girone con Di Grazia, Capitan Curcio e il nuovo innesto Oliver Kragl, già in passato con la maglia dei Satanelli, con la quale ha fatto grandi cose. Insomma, un calciomercato ancora in fermento con le formazioni del girone C, pronte a rinforzarsi per darsi battaglia.